Un progetto del CAE Assorifugi insieme al Consiglio regionale dedicato a famiglie giovani fino a 16 anni per un'esperienza in montagna diversa dal solito. Un'iniziativa la sua terza edizione ma che quest'anno si allarga alle famiglie per permettere la condivisione e aumentare la consapevolezza di una corretta cultura della montagna. Quest'anno invece i voucher mettiamo a disposizione delle famiglie lombarde con ovviamente la gratuità per gli under 16, con quale obiettivo? Quello di far conoscere il nostro territorio, far conoscere i nostri rifugi, sono oltre 100 quelli che hanno dato la disponibilità nelle varie province, con la possibilità quindi di avere un pernottamento a mezza pensione gratuito e per la famiglia a prezzi agevolati e l'obiettivo è quello di far conoscere il territorio, far conoscere la montagna, la vita di montagna e perché no stimolare magari anche qualche giovane all'appassionarsi alla vita di montagna. La prima operazione che una famiglia deve fare è verificare se il rifugio di interesse ha delle camere a disposizione, quindi è libero, facendo una telefonata in proprio. Una volta fatta questa verifica può accedere sul sito del CAI Lombardia alla compilazione di un modulo online molto semplice, sceglie il rifugio con cui precedentemente si è messo in contatto, automaticamente sulla propria email uscirà un voucher, nell'email della famiglia, un voucher che la famiglia dovrà portare presso il rifugio. È un po' lo spirito della nostra legge quello di avvicinare le giovani generazioni alla montagna, di creare percorsi educativi, di far rivivere la montagna. Quale modo migliore che fa coinvolgere i giovani in queste iniziative?